L'affano romana è tra le priorità della Regione Marche, l'ha dichiarato Renato Claudio Minardi dopo l'approvazione avvenuta ieri in Consiglio regionale del Piano Triennale della Cultura 2017-2020. Un piano che ha come primario obiettivo quello di coinvolgere tutti i soggetti interessati, istituzionali e privati, nella programmazione delle attività e degli interventi culturali, quali fonti di sviluppo economico, sociale e della Regione. Tra le azioni prioritarie, la tutela del patrimonio marchigiano, la conferma del finanziamento di 180.000 euro per le annualità 2017-2018 per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione del Teatro Romano di Fano, che è a pieno titolo tra i 10 progetti individuati dalla Regione che sono in capo al Ministero. Abbiamo anche sicuramente la valorizzazione del territorio dal punto di vista della Romanità. Sono riuscito ad inserire con un emendamento nel piano triennale la valorizzazione del Teatro Romano, per il quale il Comune di Fano sta facendo una permuta con i privati, che dovrà svolgere un ruolo importante anche nel percorso del progetto che vede il Museo della Flaminia, e quindi la valorizzazione della Romanità da Fano fino a Fossombrone, a Qualagna e Cantiano. Per Fano ovviamente ci sono anche i riconoscimenti, non solo per la valorizzazione del teatro, con la conferma delle risorse per la valorizzazione del teatro, ma anche il riconoscimento per la rete lirica realizzata dalla Fondazione del Teatro della Fortuna, il Fano Jazz, Passaggi Festival e tutta una serie di altre iniziative che sono importanti per la cultura, non solo di Fano ma dell'intera provincia.